Le vigarie e ringiovanire sono sinonimo di bellezza. Per me l'imperativo però è naturalezza e armonia. Qualunque trattamento deve essere fatto rispettando il viso e l'età della paziente. La cosa importante oggi è che possiamo accedere a delle procedure soft e mini invasive, quindi possono essere già iniziati dei trattamenti a partire dai 30 anni, quando cominciano a evidenziarsi le rughe dinamiche della fronte e del contorno occhi. Verso i 40 anni si segnano il solco lacrimale, si incomincia ad appesantire la palpebra. Verso i 40-50 anni si accentuano i segni del collo, della disidratazione dei tessuti. È dopo i 50 anni però che la donna vede realmente dei cambiamenti nel suo viso. Abbiamo varie procedure, dalla medicina estetica alla chirurgia, che ci permette un approccio più invasivo.